ariete gli impegni sono parecchi ma avete l'energia per far fronte a tutto quanto cercate di non a centrare però su voi stessi troppe questioni è un momento un po faticoso nel quale dovete guadagnarvi risultati senza contare su alcun aiuto ma sapete cavarvela egregiamente toro marte opposto talvolta vi dà ancora filo da torgere e qualche spigolo da evitare tuttavia sono più intense le influenze positive un sostegno per cambiare le carte in tavola se qualcosa non vi soddisfa per aprirvi a orizzonti mentali o materiali più ampi e coltivare la fiamma dell'amore gemelli la stanchezza a volte ha il sopravvento in questo periodo un po confuso sottotono iniziate mille programmi ma non riuscite a portarne a termine alcuno sì è vero che è anche la vostra indole che funziona così tuttavia adesso l'inconcludenza vi irrita cancro dovete mettere in conto una fase faticosa che pone limiti a qualcosa che desiderate cambiare porta qualche conflitto in amore una allontananza meglio tener duro senza pretendere subito soluzioni o successi l'importante è sapersi gestire con saggezza nei disagi leone il periodo agevola la capacità di relazione di sviluppare contatti e saper comunicare con efficacia in ambito lavorativo emergono quindi novità positive soluzioni e sintonia con i collaboratori inoltre un senso di consapevole soddisfazione accompagna le vostre giornate vergine potrebbe emergere ogni tanto la sensazione di precarietà disorientamento dovuta a contrattempi che rallentano i vostri programmi tuttavia avete ampie possibilità di raggiungere ambiziosi obiettivi infatti il quadro astrale vi invita a non esitare e accettare una novità importante bilancia in questo periodo non tutto scivola via come vorreste avete questioni da risolvere che si trascinano da tempo e adesso è il momento di una decisione radicale l'incertezza non vi reca benefici meglio l'azione decisa che possa riassessare l'equilibrio generale scorpione sono giornate che vi vedono un po' fiazzi anche se avete una moltitudine di questioni da portare avanti prevale l'auto indulgenza la dolcezza di dedicarsi al bello e al buono della vita a coltivare le storie sentimentali lontani da troppi carichi oppressivi sagittario momento positivo vivace ricco di notizie e comunicazione le relazioni sociali si intensificano e vi rendono un po' protagonisti della scena bene anche il settore lavorativo insieme alle proposte che tendono a soddisfare le vostre esigenze e la vostra posizione capricorno giove in transito nel segno vi porta novità fortunate eventi anche in attesi che possono fare la differenza la sfera sentimentale è vissuta intensamente è possibile approfondire una storia esistente o aprirsi a incontri promettenti inoltre migliora il vostro entusiasmo acquario le questioni economiche sono sempre presenti alla vostra attenzione con fluttuazioni che a volte vi rendono inquieti attualmente qualcosa di buono si muove ma dovete frenare l'impeto di eccedere con le spese meglio procedere con oculatezza pesci cielo astrale generoso che pone l'accento sulle faccende di cuore ma è favorevole anche alla capacità di dare forma ai vostri ideali e trasformarli in programmi concreti un andamento che rigenera parecchi ambiti di vita e regala nuova fiducia in voi stessi buone stelle